Maledizione, lo sapevo che quelli non ce l'avrebbero mai fatta! Li hanno sterminati? Beh, noi saremo più furbi di loro, ecco! Infatti passeremo di là, non so se mi spiego. Però non avete un po' paura, tutti sono un po' vicini. Non ce n'è Covid, non ce n'è Covid! Non c'è niente! In che senso non c'è niente, signora? Non ci sono allora a Piacenza, Bergamo! Vogliamo l'indirizzo di questi c***i morti di Covid! Posso, mentre parlo con una signora, abbassarmi la mascherina? No! No! Oh